Ciao ragazzi bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Oggi mi trovo sul dev server per vedere in anteprima il nuovo aggiornamento alla 0.8.2 Come vedete la schermata iniziale è abbastanza cambiata soprattutto per quanto riguarda questa zona qui di sinistra E' stata aggiunta attenzione la battaglia spaziale che abbiamo già visto un po' di tempo fa se vi ricordate sia con i gameplay sia durante una live Come vedete alcune navi hanno una nuova mimetica del tutto particolare che propone per l'appunto un contesto spaziale Nello specifico avremo il Flyfire che sarebbe il Gearing La Blue Aster che sarebbe una Z52 La Galaxy che sarebbe il Death ve le faccio vedere molto rapidamente La Zaglia secondo me ragazzi una delle più belle mimetiche in assoluto dell'intero gioco Che sarebbe la Zao davvero fantastica La Norma che sarebbe la Minotaur eccola qui Abbiamo poi l'Aurora che sarebbe il Moskva Eccolo anche questa molto bella La Century Oak che sarebbe praticamente la... Quella tedesca non mi viene il nome La Hindenburg attenzione Potevo scordarmi il nome La Paris che sarebbe la Republic Anche questa davvero molto bella Se devo essere sincero sono tutte molto belle Però la più bella rimane sempre quella della Zao E poi per ultima abbiamo All Destroyer che sarebbe la Curfust La corazzata di livello 10 tedesca Adesso ragazzi andrò a scegliere una di queste navi E vi farò vedere come funziona la battaglia spaziale Fatemi decidere E allora ho deciso di andare con L'All Destroyer che sarebbe la corazzata tedesca Di livello 10 Curfust Full secondarie Arriviamo a 11.6 km Potenziamenti Benefici delle navi del pesce d'aprile Abbiamo insomma dei potenziamenti che vi farò vedere Quando entreremo in partita Munizioni consumabili Abbiamo la Hydro Abbiamo l'aereo da ricognizione La possibilità di recuperare vita E poi il tasto di riparazione Ho messo le bandierine Ragazzi andiamo in partita Allora dobbiamo distruggere la stazione 402 Prima di arrivare a distruggere la stazione Però dobbiamo distruggere i 4 generatori che la difendono Ogni generatore ha 100.000 punti Quindi un totale di 400.000 punti Prima dei 500.000 della stazione Attenzione però Perché ogni nave in difesa che viene distrutta Aumenta la rigenerazione dei punti vita E ridurrà il tempo di ricarica dei cannoni principali Quindi solo principali Anche se un generatore viene distrutto Avranno questi benefici Quindi diciamo che gli attaccanti Devono cercare di attaccare Tutti lo stesso bersaglio Altrimenti poi per l'appunto Recupera La vita E non muore mai Praticamente Facciamo molta attenzione Abbiamo 3 cacciator pedinieri 3 incrociatori E 3 corazzate Vedremo quello che riusciremo a fare La gittata purtroppo come ben saprete Della curfusta Arriva a 20.4 Quindi al momento Non posso sparare nulla L'ideale sarebbe distruggere Eh bravo Proprio quello tipo No eh lo sapevo che dovevi virare Io lo sapevo Infatti ho detto aspettiamo Però poi ha fatto la virata E va bene così Dai non fa nulla Continuiamo ad avanzare Facciamo attenzione ai siluri Nemici che fanno super male Eh 4000 dai alla fine Pensavo 0 Quindi Ho ottenuto almeno qualcosina Vai vai Eh Idro No aspettiamo per la idro va Aspettiamo ancora qualche secondo Eccolo Il bluaster Eh 0.52 Ok Continuiamo ad avanzare Armi secondarie in azione Sono i miei quelli Ok dai Vai Vai massima velocità Non ci ferma Non ci dobbiamo fermare Vai 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 Chi è che usa la ricerca Va bene Abbiamo tiro su quella corazzata Appena Su quell'incrociatore Appena esce Per favore Vediamo Sarà dietro Un po' di idro Dai un po' di idro Un po' di idro Eccolo cavolo Solo che non mostra benissimo il lato Ok Ok Dai ragazzi Si è rimasto a 2000 Tipo Dobbiamo fare molta attenzione Perché i cacciador penieri Ragazzi fanno super male Spero Ok Esatto Adesso loro vanno a recuperare Molto più velocemente la vita Siamo spottati Dall'aereo Ce ne freghiamo Altamente Quello Sta là dietro Quindi non abbiamo tiro Continuiamo ad avanzare Certo è che se i nostri Si nascondono là Non ce la faremo mai Eh già ve lo dico I generatori hanno ancora 100.000 punti Dobbiamo attaccare I generatori E anche Quell'incrociatore Che Che sta fermo là Vai vai tranquillo Tranquillo Ci sono io che ti sopporto Vai 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 Cacciador penieri Per favore spottate Se no Ci fa male Quello Nemico Uh eccolo Tra l'altro Eh ok Dicevo La idro Sempre quella Quello spotting Ci stiamo avvicinando Pericolosamente Alla Zona Dei cacciador penieri Però dobbiamo Bravissimo Andiamo Andiamo sulla norma Che sarebbe la minotaur Continuiamo ad avanzare Dai Eh dobbiamo rischiare qualcosa Dobbiamo rischiarla Perfetto Perfetto così No Stiamo per perdere una nave Purtroppo Purtroppo Si vai Armi secondarie Al momento Selezionare il Generatore Però Uh da dove è uscito Questo Da dove cavolo è uscito Da dove cavolo è uscito L'incrociatore Dal nulla Non l'avevo visto Vabbè cerchiamo di recuperare Abbiamo la idro in due minuti Purtroppo Dobbiamo finire prima questo qua Veloce 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 Lasciamo stare l'incendio Ok Destra Tutto a destra C'è il loro cacciador peniere Nelle vicinanze E' molto vicino Purtroppo Anzi Sono due Ma posso sparare Le armi secondarie Sul generatore Perfavore Ah no Su C Stanno attaccando C Molto male Sono rimaste Sei navi nemiche Un minuto e ventotto Per la Eccolo Lo sapevo Ti aspettavo con ansia Guarda Ti stavo aspettando Sapevo che c'eri No pensiamo Alla corazzata Prima dai Fermati 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 Ok Tutto a destra Tutto a destra Tutto a destra Veloce 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 Dai dai ragazzi Minotaur Dai dai Cerca di andare Sulla sua Eh facciamo fatica A seguirlo Facciamo molta fatica Perché là c'è il cacciador peniere Non ci scordiamo Bravo Alla no Mi ero scordato dei siluri Bravissimo Ma allora si che funziona in questo modo Allora si che va bene Dai che c'è l'incrociatore C'è il generatore Scusate È molto vicino Idro in 20 secondi Ma le armi secondarie Sparano Sì Sparano Al generatore Molto bene 10 secondi Idro Non so cosa sta scrivendo in chat La usa lui Bravissimo Però dobbiamo spottarlo Più che altro Eccolo Come è vicino È vicinissimo Eh si li riaprua Vai ora 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 Vai 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 Attivata 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 Siamo un po' più sicuri Eh no Mi dispiace Eccolo C'è la norma lì Andiamo più sulla norma Perché Fa malissimo quella nave Poi con la ricarica E con il bonus che ha ricevuto Non ne parliamo Chi è che mi sta sparando da un'ora? No mi sono Cavolo Perché non mangiate due? Mannaggia mia Mannaggia Vabbè dai ormai Quel che è fatto è fatto Ok Vai vai Continua Continua Non ho lasciare neanche un secondo Non ho lasciare neanche un secondo Eh vedi come recupera i punti di vita Porca miseria Dai veloce Velocissimo Abbiamo tutti i cannoni tra poco Bre Vai Bravo Grande Questo fa male È spottato dalla idro Non può nascondersi Dobbiamo distruggerlo Sono rimasti in tre Mettiamo le HE Sono rimasti solo i cacciador penieri Penso che ce la dovremmo fare A distruggere tutte le navi In due minuti Molto bene Recuperiamo vita Per una maggiore sicurezza La idro ormai Spotta il cacciador peniere Veramente È rimasto Non sa dove andare Giustamente Abbiamo messo le HE 40 secondi Come recupera velocemente I punti di vita Non ci voglio credere Vai No dai È rimasto a 900 E poi è salito subito a 1.900 È incredibile Meno male che si è andato a schiantare Meno male Meno male Meno male Meno male Ottimo Aspetta che ci andiamo a scontrare Contro Contro la stazione 402 Fantastico Ce la facciamo? No nella virata Non penso a chiuderla Ci serve un generatore Perché il cacciador peniere nemico Mi sa che non ce la facciamo In tempo Collisione Vai Mettiamole AP magari Stiamo continuando a sparare Al Al generatore Abbiamo fatto 231 colpi d'arma secondaria 3 cittadelle Vabbè insomma Abbiamo fatto qualcosina Attenzione I siluri sul Generatore Funzionano E certo che funzionano Ottima intuizione Bravo Molto bene Ragazzi mi raccomando Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Una bella condivisione Per aiutare sempre Di più il canale Devi accrescere E inoltre Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo Nuovo Diciamo Di questa nuova modalità Mancano Due minuti e 33 Dobbiamo distruggere Un cacciador peniere Che recupera vita Praticamente noi leviamo Mille punti E lui ne recupera 10.000 Fantastico Ho messo La massima potenza Da un bel po' Solo che ci mettiamo Qualche secondo Vai Veloce Perfetto Mettiamo le HE Però penso che adesso Direi basta Vero Hai recuperato Fin troppa vita In difesa ragazzi Si possono fare Davvero tantissime cose Perché La vita che si recupera È qualcosa di Impressione Guardate 4.000 4.000 5.000 Una cosa incredibile Tutte le navi nemiche Sono state distrutte Vittoria Grandi Abbiamo fatto Due kill Abbiamo sfondato Molto bene Il settore Di destra E quindi ci portiamo A casa La meritata Vittoria Vediamo anche Cosa abbiamo guadagnato Per avere Un'idea più chiara Portiamo a casa Ok Penso Che sia abbastanza standard Però il premio ricevuto Perché comunque Ho fatto molti danni 1586 Tra l'altro Noi non abbiamo perso Nessuna nave Davvero fantastico Rapporti dettagliati Eccoli qua Crediti Vabbè ragazzi Diciamo che Non ci interessa più di tanto Video terminato Grazie per l'attenzione Noi come sempre Ci vediamo la prossima Ciao 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 Grazie a tutti.